Ciao a tutti e a tutte e a tutto ciò che c'è in mezzo e benvenuti alla puntata numero 46 del Pietro Toranti Cycling Podcast questa volta senza sigla perché l'altra volta obiettivamente c'è venuta malissimo Marco cioè qui potevamo decisamente fare di meglio come coordinazione Tagli strutturali bisogna risparmiare quindi abbiamo dovuto tenere da parte l'ingaggio che avevamo speso l'altra settimana per quella canzone sono soldi della CIA che dobbiamo pagare quando facciamo queste cose caspita come me l'avevi detto? volevo farti una sorpresa bella sorpresa ciao a tutti, ciao a tutti, aspetto è bonifico una sorpresa stile Kale B1 e Team Merlier praticamente vabbè non si può dire che abbiamo fatto, non la dico perché è proprio una cagata da Boomer buonasera a tutti, non sbumeriamo, non sbumeriamo Marco, noi siamo un programma molto giovane però se io dico io sono giovane dentro oppure cose di questo tipo oppure sono boomer oppure se dici no io non sono assolutamente un boomer cosa dite? è la dimostrazione stessa che lo sei già no ma c'era quell'altra frase che mi ricorda anche quando Marge diceva ai figli una cosa del genere e loro diceva no questo è proprio il massimo che diceva è molto più cool non essere essere boomer è molto più cool del non esserlo certo certo che scrive, disse il pubblico vabbè sono fieramente boomer cringe cringe o kring? avevo già chiesto questo ma non me lo ricordo cringe cringe, ma lo sai che in realtà il cringe adesso va molto di moda, cioè i giovani cercano di generare appositamente cringe perché piace anche al pubblico il pubblico è stato così abituato alla sensazione del cringe e a farci sopra poi dei meme, dei discorsi che ne è appassionato, cioè lo chiede il pubblico vuole del cringe questa cosa un po' mi cringe devo dire faccio una cosa cringe io avete visto ho fatto questa cosa per sistemare il fuoco quando e dove l'avete vista l'ultima volta questa scena così una cosa del genere ditemelo questa è cringe secondo me questa cosa oppure potrei anche potrei anche cantare la dolce Euchessina 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 questa è una pubblicità quando io ero piccolo questo sì che è boomer e la cantava mio nonno non diceva Euchessina diceva Ochessina questo è pre-boomer allora era ben lontano il boom quando la vedeva eh la dolce Euchessina mai più senza bene bene perché mi hai convocato oggi? che vuoi? 46, la puntata 46 46 è il numero di Rossi? Valentino Rossi? perché lo diceva qualcuno l'altra settimana San Valentino, Valentino Rossi 46, 45 purtroppo sì ma ti ho convocato qui in questa sede virtuale per parlare dell'ultima settimana ciclistica non te l'aspettavi questa? ha vinto 50 gare Pogacar in una settimana? cioè questo ho capito io da una sintesi estrema mi sembrava un avvio esagerato insomma sostanzialmente l'impressione che ci ha dato è quella cioè Tadej Pogacar è arrivato nel ciclismo da relativamente poco comunque fondamentalmente è nato a grandissimi livelli poco prima del lockdown e si è definitivamente consacrato subito dopo il lockdown e già oggi ha 50 vittorie è arrivato a 50 vittorie più veloce più velocemente di velocisti potentissimi dalle tantissime vittorie in carriera quali Cavendish o Peter Sagan abbiamo visto i giorni storsi e statistiche sono numeri che fanno girare la testa avrebbe detto qualcuno una volta all'epoca boomer chi è? di chi era questa? Fabio e Luigi ah sì numeri che fanno girare la testa mille perché non ha detto mille non mi è partito il regresso Pavloviano 50.000 va bene quindi di poca ce l'abbiamo già detto tutto che altro c'era in programma? no bene penso che dobbiamo parlare di Bocca Len no no io era l'unica cosa che avevo segnato con questo possiamo darsi appuntamento alla puntata numero 47 dedicata ad Andrei Chirilenko ah e lo dici come se io sapessi chi è va bene prima di dare appuntamento alla puntata 47 voglio ricordare a tutti che lunedì sera che non saremmo combinati però non saremmo qual'era questa cos'era la musica del Leone MGM era questa o United Artists non era 20th Century Fox 20th Century Fox eh sì ok quella quella quindi lunedì sera ci sarà questo colossal con i dieci comandamenti poi dopo lunedì sera in esclusiva sui canali di Ciclo Web Avatar 2 Avagardner 2 no ci sarà l'osteria di Ciclo Web prima puntata del nuovo format streaming live streaming torniamo in live tiro dentro un po' di vecchi amici un po' di scemi insomma Eugenio Vittorio su tutti qualcuno ricorderà bene quindi saranno delle puntate l'osteria non è un titolo casuale ci sarà del vino che scorrerà a fiumi poi io ho fatto pure il vino forse l'avevo detto qualche tempo fa ho fatto il vino e ora ora lo sto bevendo perché è venuto insomma fermentato quindi ho questi 100 litri di vino da consumare nel corso delle puntate e quindi questo vi dice che le puntate saranno molte per consumare 100 litri di vino ci vorranno almeno 10 puntate e quindi vi do appuntamento di sera alle 22 dopo il calcetto non so se riesco a giocare al calcetto anche alle 8 però se ci riesco dopo il calcetto e dopo i 10 comandamenti se si il bid 1000 e tutto il resto ci vediamo con l'osteria di ciclo web un'occasione per cazzeggiare per parlare un po' di ciclismo ma marginalmente in maniera non certo professionale volevo chiederti anche in confronto alla nostra trasmissione che già penso batta dei record in questo senso quale sarà la percentuale di ciclismo in questa trasmissione siccome come vi dicevo l'altra settimana mi hanno ritirato dentro il gruppo dei saggian sessuali il gruppo whatsapp per perseguire Sanremo ma non solo allora poi in questo gruppo vengono fuori degli argomenti anche interessanti ieri si parlava per esempio di inquinamento di acqua che scarseggia ma tanto abbiamo il vino come dicevo prima di modelli sostenibili non sostenibili e sono venute fuori diverse diciamo posizioni contrapposte quindi mi incuriosisce sviscerare anche in live streaming questi temi parlare un po' di politica di partito comunista cinese non lo so non lo so di ciclismo parleremo di ciclismo se no poi i ragazzi qui si spaventano e non viene ad ascoltarci solo di sicuro poi ci divertiremo e qualcos'altro mi inventerò probabilmente forse ho trovato finalmente un modo per non costringere Marco a far parlare me di quelle cose così si può trasfogare a lunedì sera ci arriva al martedì già bello preparato pronto per parlare di ciclismo in maniera sia seria come solo qui sappiamo fare in bocca al lupo all'osteria i ciclo web lunedì dal lunedì alle 22 ovviamente io la guarderò insomma live con non lo so vediamo con la birra da lunedì alle 22 al martedì alle 14 quindi saranno 16 ore di live streaming allora c'è anche un altro ingrediente di mezzo qui attenzione attenzione bello bello ci piace si può dire una trasmissione boomer e cringe sì 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 sicuramente ci saranno altri noti boomer dancelli claudio dancelli marco gaviglio simone bambino ora mi devono dare tutti conferma però insomma il massimo del boomerismo sarà davanti ai vostri occhi e io ci sguazzerò proprio come un'anguilla a comacchio me ne vado che però lo dico da rappresentante dell'anti boomerismo ma è un boomerismo positivo sono sicuro quello che esprimerete lì rispetto ad altri luoghi magari e quel boomerismo mi piace sì sì che può piacere detto ciò bene ci diamo appuntamento alla prossima puntata non parleremo oggi di Vuelta Andalusia Vuelta Orgarve Tour of Oman Tour des Alpes Maritimes Duvar Tour of Ruanda Settimana ciclistica Volta Comunità Valenziana Femminine e Y Tour niente un saluto a tutti ma tutte queste cose ci sono state quando ci sono state tutte queste cose che è successo questo periodo è una tragedia praticamente ma se io prendo il calendario allora poi prossimamente torniamo anche sul discorso del calendario femminile che è stato affrontato da diversi soggetti però c'è una incredibile disarmonia del calendario perché la settimana prima non c'era nulla praticamente siamo stati io ben contento mi sono potuto dedicare agli europei su pista però non c'erano corse solo sabato è cominciato il giro del Lomano e invece questa settimana che è finita domenica tre corse in contemporanea quattro corse cinque corse così come due settimane fa tra l'altro no questo è ancora peggio perché sì è vero due settimane fa penso che sia in realtà derivi proprio dall'idea di affrontare le stagioni dal punto di vista delle squadre un po' a blocchi cioè questa settimana posso correre quelle due no perché ho l'altura l'altura devo far per forza perché poi c'è la monumento per esempio quello che è e quindi tu organizzatore sai che io farò per forza l'altura le due settimane precedenti allora tutti cercano di posizionarsi nelle settimane in cui le squadre sono fra virgolette libere o comunque disponibili ci sono più squadre disponibili possibile immagino perché non ce l'ho mai pensato ma è una prima risposta che do così di getto non è male come interpretazione sicuramente può essere una chiave di lettura o comunque di sicuro diciamo che queste settimane di stacco servono proprio per le squadre per infilarci i ritiri in altura eh sì che una volta erano uno o due adesso ne fanno sei all'anno quindi per esempio in questo momento c'è tra gli altri tra i vari che sono in ritiro c'è in ritiro Vogt van Aert che sta a Tenerife con Affini e Bowman perché proprio Vogt van Aert perché l'altro giorno Bone cosa ha ben pensato di fare di sparare a zero vabbè non è che abbia sparato a zero l'ha fatto con rispetto un corridore fenomenale ha vinto corse magnifiche l'ha fatto in puro stile Bone lui dice le cose che pensa senza chi gli frega vabbè giustamente dall'alto del suo palmarespo trovate tutto su ciclo web perché abbiamo sviscerato il tema quindi non ne parleremo oggi niente spoiler adesso ve l'andate a leggere questo è un clickbait 3.0 manco di questo quindi parliamo vabbè no 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 la tazza ecco questo recipiente allora leggo cosa faccio leggo praticamente Tom Bone in primis ci ha quotati perché all'inizio ha iniziato dicendo Van Aert subisce Van Der Poel ogni volta che c'è un testa a testa gli succede qualcosa è ok però la cosa veramente interessante appunto di questa intervista che è un po' legata forse anche a questo pensiero è che ha detto che Van Aert vinca 20 gare di ciclocross in una stagione non importa a nessuno a nessuno se non ce ne frega un K quest'anno compirà 29 anni e deve vincere delle classiche su strada se veramente lasciare il segno non voglio mancargli rispetto anche perché è un corridore incredibile che ha vinto in maniera fenomenale ma ha aggiunto un livello mai visto tanto che mi chiedo che senso abbia spendere tante energie nel cross di inizio anno intanto commentiamo sta parte poi passiamo alla parte sulle classiche Marco secondo me l'errore che commette Bone e tutti quelli che hanno questo tipo di pensiero è di voler scindere cioè Van Aert secondo me è così forte nella sua stagione su strada proprio perché ha un equilibrio psicofisico che passa molto dal cross da queste sfide invernali se tu glielo togli rischi di rompere questo equilibrio cioè ma vogliamo dei robot che che seguano soltanto le tabelle facciano soltanto ritiri e poi vadano in gara sì magari vince qualcosa in più però è vero è vero che il palmarès di Van Aert inizia ad essere preoccupante il palmarès su strada è vero questo perché alla fine di classica monumento ha vinto soltanto una mila cosa che comunque è una classica monumento ma in Belgio poi da dove viene Van Aert insomma sicuramente non vale come altre classiche monumento quelle che fanno un po' la storia di un corridore in Belgio obiettivamente diciamo che se la vinci dopo aver vinto o insomma prima di aver vinto ma insieme a quelle altre a Fiandre e a Roubaix perché alla fine di questo parliamo se vince anche la Sanremo se un'altra cosa è Bonen infatti fa il figo perché lui ha vinto anche la Sanremo oltre ad aver vinto e anche il mondiale e anche il mondiale quindi vabbè ma Bonen ma stiamo parlando di dai chi c'è stato come Bonen negli ultimi quarant'anni nelle classi forse forse nessuno o pochi non lo so la Gilbert ma non manca la Sanremo e per qualità e quantità con i pietri nessuno penso cioè ma anche il dualismo con Cancellara comunque Bonen l'ha vinto alla fine perché ha vinto anche il mondiale e ha vinto una cosa comunque quindi quando parlo di mondiale parlo del mondiale in linea perché il mondiale a cronometro è importante sì però è un'altra cosa una corsa da specialisti non lo so allora quindi diciamo che diciamo che le quattro grandi corse facciamoci le cinque grandi corse fondamentali da vincere se vuoi essere una super leggenda del ciclismo soprattutto in Belgio potrebbero essere il Tour il Giro Fiandre Roubaix e Mondiale cioè per iscriverti al club dei grandissimi devi vincere alcune di queste qui detto che Tour e Giro Tour e Giro segnano il passo dagli anni 70 praticamente per il Belgio quindi anzi forse l'81 l'ultimo The Wing va beh non è importante ai fini della nostra riflessione però se Bonen è portato a fare confronti con se stesso è chiaro che insomma chiunque è destinato quasi a uscire con le ossa rotte da un confronto ora vediamo Remco che è qualche anno più giovane rispetto a Van Aert se nel Palmares ecco se ha la faccia di uno che nel Palmares può ammettere un po' di cose di quelle che hai citato vabbè non le classiche delle piete perché non è tagliato però al posto della Rubè ci metti la Liege al posto del Fiandre ci metti Lombardia se lo vorrà fare ci può provare non quest'anno guarda allora tu dici che Bonen fa un errore secondo me non è necessariamente un errore semplicemente sono due filosofie diverse io paragonerei la filosofia di Bonen all'empirismo fondamentalmente cioè come si fa a raggiungere il massimo con i mezzi che ho io voglio arrivare lì non mi interessa come dove quando opposto un pochino al trascendentalismo vanartiano mi verrebbe a dire cioè questo rapporto del vuttone con la natura e la società che ne determina le gesta e lo eleva a livello etico e morale rispetto agli altri che è un pochino quello che viviamo effettivamente con lui io non penso che nessuna delle due cose sia sbagliata appunto dipende da una visione diversa della vita di ognuno perché appunto non penso di poter dare torto a Bonen quando dice che uno viene veramente veramente ricordato da tutti proprio come un'icona mondiale solo se vince classiche sulle pietre a mazzi se è quel tipo il corredore lì per esempio oppure tour de france a mazzi se è Jonas Vingegord mentre rimane un pochino dietro comunque se è solo fra virgolette un vincitore di tappe del tour semi classiche un sacco di roba giri brevi obiettivamente come dice delle venti gara di ciclo a chi frega dei giri brevi poi nella storia del ciclismo io non penso che sia un'idea così sbagliata è un'idea appunto molto cinica ovviamente a livello a livello in cui ne sta parlando lui cioè dal suo punto di vista dell'atleta migliore possibile quello che raggiunge più risultati grandi grossi importanti possibili infatti Bonner era uno che selezionava molto poi spesso soprattutto a fine carriera proprio calendari e sta dando il consiglio a Van Art se vuoi elevarti a questo campione proprio mondiale intoccabile bisogna che vinsi anche quelle cose lì e il discorso chiaramente poi verteva anche sul resto del discorso che adesso andremo a leggere però ti lascio spazio per rispondere alle mie foglie e lucubrazioni no ma è chiaro che entrambi sono aspetti che hanno diritto di cittadinanza legittimità e anzi e rispettabilità entrambe le posizioni diciamo che il discorso è che Van Art conosce se stesso meglio di quanto lo conosca Bonner quindi probabilmente sa di più forse quello che gli serve per rendere al massimo ecco l'unica cosa potrebbe essere che faccia una stagione in cui lascia proprio da parte ciclone per vedere la differenza però il discorso è che poveraccio ma lui ma anche gli altri Renko ha fatto l'elenco dice no io Pogaciar Van Art e Van Der Poel abbiamo reso il ciclismo una cosa più bella più appassionante più figa più cool e dagli torto insomma però ho fondamentalmente creato il canale apposta cioè ma sono venuti tutti insieme capito io stamattina mentre mi agitavo nel letto riflettevo su queste cose dicevo ma poveretti io a Van Der Poel avevo detto vincere la 10 monumento ma non sapevo che poi sarebbe arrivato un attimo dopo Remco anche o Pogaciar che gli contende addirittura il Fiandre o la Sanremo e sono venuti tutti insieme quindi alla fine le cose sono quelle allora o raddoppiamo il numero di classiche monumento di disputare nell'arco della stagione e potrei anche essere d'accordo tutto sommato facciamo un calendario di apertura un calendario di clausura come in Argentina nel calcio e insomma facciamo la Sanremo di apertura la Sanremo di clausura il Fiandre due volte il Rubè due volte sono solo per il monumento non sarebbe mica male però non penso se ne sia neanche bisogno in realtà penso che ti faccio un esempio così come Federer Naldale e Djokovic erano così tanto più forti degli altri che per penso una ventina quasi d'anni si sono spartiti tutto loro anche se magari nella spartizione tutti questi campioni dovessero rimanere con qualcosina in mano che ne so di Merckx e compagnia bella comunque se vincessero più o meno sempre loro questa sarebbe palesemente e più o meno già lo è in realtà dal mio punto di vista l'epoca di quei quattro magari quei quattro cinque che ha nominato Renko ma il fatto è che non è così però per ora non è così a livello di vittorie assolutamente non è così assoluto perché il ciclismo è un'altra cosa rispetto al tennis perché nel ciclismo c'è la tattica che gioca un ruolo importante e ne parliamo ora che parliamo anche di Van Barle che l'anno scorso Van Barle ha vinto la Rubea cioè naturalmente di tutti i corritori di cui parliamo massimo rispetto massima ammirazione massima stima però poi ti capitano quei corritori che vincono e che non accendono l'immaginario ti capita Stolven che vince la Sanremo Van Barle vince la Rubea Hasgren che vince il Fiandre e il mondiale no il mondiale vabbè ha vinto Renko l'ultimo e poi ha vinto Alan Philippe però capita qualcuno sbagliato dice sporcano l'albo d'oro Mohori ci ha vinto la Sanremo ovviamente non diciamo una cosa del genere Van Barle negli ultimi anni ha ottenuto risultati a livello degli altri due sulle pietre poco da dire a riguardo però non resta capito cioè resta un po' a noi quanti conoscono la faccia di Van Barle anche tra le appassioni di ciclismo non tanti secondo me e quindi resta un po' così la questione cioè sono colbrelli ha vinto una Rubea cioè rendiamoci conto colbrelli che ha fatto un'impresa meravigliosa tutti ci siamo emozionati però chi avrebbe mai detto che colbrelli potrebbe vincere una Rubea alla prima partecipazione è vero che era pure la prima di Mattia quella volta il voto invece proprio non c'era però questo ti dà la misura di come nel ciclismo non ci sia veramente nulla di scontato quindi per vincere anche quelle cose se devono sudare ora Mattia ha vinto due Fiandre e basta come monumento Voto ha vinto una Sanremo e basta come monumento c'è una concorrenza di Pogaccia nelle loro corse nella Sanremo e nel Fiandre quantomeno per ora c'è una concorrenza di Remco in prospettiva sicuramente al mondiale ma poi Remco in squadra con Voto quindi falli convivere è proprio la storia delle squadre oggi c'è molto più organizzazioni di squadra più tattiche aggressive che si possono fare avendo più uomini forti nella stessa squadra non è come una volta sicuramente ma infatti questo è il motivo per il quale personalmente ho sempre considerato molto normale per esempio il palmarès di Peter Sagan che tanti dicono ma anche noi l'abbiamo detto essere un po' sotto aspettative ma a posteriori visto con chi doveva avere a che fare la quick step e non solo non lo considero assurdo è frutto un po' della nostra epoca infatti è questo forse che Bonen non sta considerando però Sagan la besieme più grossa è quella della Sanremo di Ciorek quella lì non considero neanche quella di Krakowski perché Krakowski è stato un grande corridore della penultima generazione anche se poi ha fatto più di regare che altro da un certo punto in avanti però Sagan si è incazzato a morire che non gli ha dato i cambi detto ciò proprio su Van Barle ha detto che non è per niente convinto diciamo di questa storia Bonen sì 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 non è per niente convinto in questa storia che la Jumbo di Van Aert va a comprare il ciclista che ha appena vinto la Roubaix Van Barle tornerà vittoria a Van Aert perché le gare in cui Dylan può aiutare Vought sono le stesse che può vincere in prima persona alla Jumbo va bene perché fare i classi con più di un leader può aumentare la possibilità di successo e giustamente tu poi qui sottolinei l'esperienza passata di Bonen che ha visto vincere due Roubaix a Stindevolder due Fiandre due Fiandre a Stindevolder per essere partito lungo long range per dargli una mano in chiave tattica e infatti si hanno ingazzato Van Barle per fargli fare il forcing sul quare ma controllate quante volte proprio su quel muro parte azione vincente Dylan lo sa bene per questo è andata la Jumbo cioè lui sta dicendo fondamentalmente Vought sei il pollo della situazione Van Barley invece è stato quello furbo che viene nella tua squadra e può comunque farsi i cazzi suoi in qualche modo su questo non mi sento di dare torto a Bonner però l'alternativa qual era anche in questo caso cioè chi devi prendere che corridoio devi prendere per fare in modo di poter ipotizzare una superiorità numerica nel finale di queste classiche scusate devi prendere uno del genere no? in teoria avendo preso la Porte l'anno scorso la Porte Benut la coppiata lì io non penso che non sia abbastanza per vincere le classiche Monumento quella squadra senza prendere nessuno proprio in più non basta ancora è stato un po' forse anche un po' un overreach dovuto al fatto che molto probabilmente alla dirigenza Jumbo che l'anno scorso ha vinto addirittura il Tour de France ma non vince le classiche sulle pietre da non so quanto tempo gli sono girati un po' i maroni in questa situazione ha detto vabbè andiamo all in vabbè diciamo che è parte vamparle sul quare molto ora noi stiamo parlando di queste corse come se in realtà sabato inizia la stagione belga delle classiche con la Homelop inizia la vera stagione di pietre cioè almeno la mia stagione ciclistica inizia l'Homelop sempre Homelop inizia l'Het News Blood tra l'altro l'Het News Blood è il giornale su cui Bonen ha rilasciato queste dichiarazioni domenica la KBK Kurn e Bruxelles Kurn insomma se parte vamparle secondo me si impegnano di più per andare a prenderlo gli avversari proprio per la caratura del corridore anche se diciamo che vamparle è un terza degli anni venti il problema è che vamparle delle corse belle così certo ma tu a vamparle lo mandi ad inseguire il tuo miglior corridore col tuo miglior corridore a 80 km dalla fine o col tuo secondo miglior corridore che però rischia di essere poi abbastanza meno affidabile di lui in un finale per esempio l'Alpesin quest'anno ha preso Soren Kragandersen ha preso Quinten Hermans insomma se le ha un po' di uomini eventualmente a staccare lo segue Mathieu? secondo me lo deve seguire Mathieu se vuole vincere la corsa perché se no la vince Van Barle quindi tu praticamente lasci la scelta a Mathieu a Pogaccia si possono anche mettere d'accordo Mathieu e Pogaccia per inseguire me l'aspetto me l'aspetto lo faranno lo faranno quando c'è Pogaccia in gara puoi stare tranquillo che la terza strada è molto difficile anche se capisco che insomma Van Barle abbia esattamente quello in testa ragione buona in questo cioè Debs ha vinto Fiandre e Roubaix proprio in questo modo non puoi neanche dire che sia stato un corridore un vincitore di poco conto di caratura ridotta quindi ci sono sempre stati questi corridori nella storia delle classiche del nord e continueranno ad esserci quindi bisogna farci i conti io li amo per quanto riguarda il finale poi dell'intervista sostanzialmente ha detto Van Har dovrebbe smettere di fare cross basta l'ha fatto per troppo tempo di carriera per quanto riguarda invece la risposta del buttone non ve la spoileriamo vi lascio al pezzo di ciclo web questa sera dai no secondo me la possiamo anche dire se si rimane male o di sa no diciamo almeno che è pure l'Efevere Patrick Lefe perché era un'intervista doppia a Bon e l'Efevere e pure l'Efevere ci ha messo il carico suo il noto brontolone Fiammingo il titolo eppure lui ha detto io ho cercato ho pensato più volte di prendere Van Har quando era più giovane di ingaggiarlo per la mia squadra però ogni volta lui nelle interviste diceva no ma io voglio continuare a fare il crossista voglio una squadra che mi lasci la libertà di fare i cross e quindi e quindi alla fine ci ho rinunciato ma viva Dio dico io cioè veramente parliamo sempre di multidisciplina eccetera ma dai ma lasciamoli correre anche nel cross tanto anche se non fai il cross Van Hart e qui vengo a chiudere poi il discorso il ragionamento che avevo in testa non è che gli sarà più facile poi vincere perché per tutte le cose che abbiamo detto finora perché comunque ci sono sempre dei risvolti tattici particolari perché può essere pure che magari se si trova a dover competere con Van Der Poel e spesso gli capita nelle classiche magari subisce questa cosa cioè se non fai il cross non la subisce più questa malia da parte di Mathieu e poi comunque le sue possibilità di vincere ce le ha comunque io mi auguro che quest'anno la vinca almeno una di queste corse di modo da mettere un po' a tacere queste queste voci queste non lo so io mi metto sui panni no? ogni cosa che fa è sempre sotto la lente di ingrandimento sotto il microscopio è normale che sia così però è anche normale che non si rompa le balle di questa cosa per molto meno Ganna per molto meno Ganna ha fatto le sue solite cose quindi vi aspetto che anche Vought dopo la Roubaix magari zittisca un po' di gente sì sì succederebbe sicuramente vabbè insomma sostanzialmente abbiamo visto questa contrapposizione di stili il trascendentalismo vanartiano l'empirismo boneniano e ovviamente il pragmatismo lefeveriano che è proprio la sua scuola di vita pragmatismo calvinista o se vuoi proprio il macchiavellismo direttamente proprio in effetti ma parliamo di colui che vincerà invece il Fiandre cioè quello che ha messo in copertina Tadej Pogacar ha fatto questo questa volta andalusia così come la Haen Paraiso in teoria perché non era poi molto in forma veniva dalla gastrointerite ha vinto tre tappe su cinque no le doveva fare lo stesso cioè erano comunque in programma il tour degli emirati che non fa per la gastrointerite la vuolta la doveva fare lo stesso doveva farsi la vuolta andalusia che il 2e tour ok me l'ho perso comunque ha vinto tre tappe su cinque di cui un'altra non l'ha vinta perché l'ha vinta il compagno Vellens lasciato in fuga appositamente sai che forse no però perché non ci troviamo per quello dicevo siamo sicuri allora forse ha messo l'andalusia al posto della UE tour comunque dominio totale veramente quasi imbarazzante per gli avversari al punto che ha generato tante domande su un eventuale stadio di forma troppo precoce che però appunto a me ha un po' interdetto questa cosa perché lui in teoria doveva essere un po' indietro di preparazione e poi è arrivato qua contro tutti gli altri che in teoria non avevano questi problemi venivano tutti dai periodi di altura normali senza interruzioni e li ha demoliti proprio male male demoliti e demonizzati ha anche avuto la squadra della superiore Tim Vellens ha vinto pure un'altra tappa Kovic si è piazzato varie volte c'era Irsh che poi si è rotto il polso Kovic doveva essere la ciliezina sulla torta vinse l'ultima però si è fatto battere da Fraile in volata perché Fraile in volata ristretta in Spagna è tipo il Zolli cioè è imbattibile se lo dicesi perché Kovic è una pippa anche Tadeo è una pippa se non avrebbe vinto tutti e cinque vabbè dicono che non aveva avversari però insomma non è che Landa Buitrago Carlos Rodriguez Enric Maas soprattutto ma anche Gigan Hart Caruso vi sto dicendo nell'ordine in cui si sono piazzati alle sue spalle in classifica insomma Landa Maas è gente che fa podio nei zitti abbastanza regolarmente quindi gli avversari poi sono quelli mancava certo non aveva uno dei top tre da e poi questi top tre voglio dire Vingegaard ancora non si è visto Remco l'avevamo visto a San Juan non al top ovviamente ma era a gennaio e lo stiamo vedendo in questi giorni negli Emirati l'altro Roglic non correrà fino a Catalogna farà solo il Catalogna e poi il Giro d'Italia una scelta un po' che anche questo ha fatto discutere perché dice ma corri così poco se forse un altro paio di corsette le avrei messe in calendario un altro giro breve si sta sicuramente un altro giro breve facendo la stringata è una classica fai pure una classica dai non vuoi fare la Liege troppo fai la freccia che ne so obiettivamente per quanto riguarda l'esclusione totale dalle classiche io ho un paio di pensieri se li ho però ho paura di allungare troppo il brodo ma uno è che è difficilissimo ormai per lui contendere la leadership cioè dividere la leadership con tutte le altre frecce che hanno all'arco in umbovismo e l'altra che forse non vuole ha paura ormai un pochino di eventuali cadute in situazioni di grupponi non nel senso che ha paura di stare in gruppo quello non mi pare sia mai successo sembra abbastanza scavezza collo sempre ma che voglia evitare disguidi ecco in preparazione non lo so può anche essere va bene comunque non c'è questo è un fatto va bene sì sostanzialmente Pogacar ha dominato non c'erano grandissimi avversari ma ha comunque dominato Pogacar c'è invece si parla di Rossi eccetera esatto esatto passando all'Algarve c'è stata ma dimmi una cosa su Pogacar cioè ma secondo te voglio un parere spassionato perché non abbiamo elementi per dirlo secondo me è troppo anticipata la sua condizione oppure quest'anno ha una condizione ancora superiore rispetto a fatto un ulteriore step di crescita e quindi fra Sanremo e Fiandre che sono le classiche che ha puntato e poi farà la Liegi anche se io sogno che ci inserisca pure la Rubè ma non lo farà lo vedremo dare la zappa sugli avversari quest'anno immagini Pogacar che c'è a Sanremo ma ti sarebbe bello beh mi pare evidente che l'idea sia quello cioè l'idea sia arrivare a Sanremo più che al Fiandre perché se sei in forma sparata a metà febbraio come fai a arrivare in forma al Fiandre obiettivamente non penso aver mai visto un corridore avere questa stagione sinceramente lo stesso Van Aert per esempio che sa queste stagioni di forma infinita se corre troppo prima della Roubaix più di una volta si è visto cioè arriva la Roubaix con la lingua per terra sicuramente non brillante come magari appunto a inizio marzo cose così quindi se è orientata alla Sanremo potrebbe tranquillamente essere una preparazione giusta però è difficile escludere che non sia un po' troppo avanti Marco anche per il fatto che ha avuto un setback cioè ha avuto un problema che in teoria gli ha fatto perdere qualcosina caspite prima del problema cos'era? era in forma Tour de France? eh vabbè lo scopriamo lo scopriamo la briginista questi sono gli elementi che abbiamo strade bianche e pariginizza la mia tesi è che quest'anno abbia fatto uno step in più e sia più forte dell'anno scorso magari no guarda se seguissimo le sue dichiarazioni si potrebbe tranquillamente pensare questo perché lui l'ha detto più volte ragazzi io ve lo dico quella sconfitta che tutti dite che mi ha stimolato vi dirò che mi ha effettivamente stimolato e ho cambiato delle cose in preparazione adesso spazzo via tutti insomma non lo esprime non so se qualcuno in giro ha le palle di escluderlo diciamo che l'interpretazione avversa è che invece magari abbia voluto saltando diplomaticamente l'UAI lo UAE diciamo abbia voluto evitare il confronto con Remco boh chi lo sa boh non lo so comunque domani vedremo Remco su Jebel Jais che è una delle due salite totali dell'UAI Tour però in salita Pozzi indubbiamente sta andando fortissimo e comunque questo è ineluttabile perché ha schiantato tutti quegli altri che ripeto sono dei signori scatori obiettivamente comunque è controfattuale questa ipotesi se consideriamo che dalla Tirreno lui ha deciso di non fare la Tirreno di fare la pariginizza alla pariginizza va a incontrare Vingegor che è proprio quello che l'ha battuto a Tour de France anche se un Vingegor ha le prime pedalate della stagione quindi sicuramente non sarà a livello del Tour lui parte Vingegor parte dopo domani dalla corsa galiziana o Gran Camino quindi lo vedremo lì e poi lo vedremo direttamente alla pariginizza non farà la strada è bianca in mezzo va bene bene degli altri c'è poco a dire perché veramente è stato totalmente riempito gli occhi in questo giro breve passando un altro giro breve è adorabile la volta a Olgarve la trovo sempre quasi sempre divertente comunque non come percorso ma succede sempre qualcosa di interessante in questo caso la cosa interessante è stata che a Pippo Ganna ha retto molto molto bene in salita è arrivato vicinissimo alla vittoria finale ma soprattutto se è giocata fino alla fine stavolta davvero la vittoria di un giro breve ne parliamo da mesi altronde prima o poi succede prima o poi succede si sta andando sempre lì praticamente ha fatto secondo in due giri brevi già quest'anno in due tappe con finali in salita già quest'anno giro dominato fino a quel momento fino alla crono finale da Magnus Court che ha vinto due tappe una più bella dell'altra con due numeri pazzeschi nel finale veramente tanta roba se non l'avete vista andate a cercarveli perché entrambe le volte era indietrissimo è riuscito a fare no scusa una volta era indietrissimo è riuscito a rimontare tutti all'ultimo secondo in salita e l'altra ha fatto una volata di testa dalla fuga col gruppo che non è riuscito a riprenderlo da quanto era lunga e potente la sua volata è una roba imbarazzante per tutti devastante Magnus Court l'ho già detto vero che vincerà almeno una classica quest'anno mi pare proprio di sì e niente alla fine però Daniel Martinez a sorpresissima che era il terzo Ineos favorito cioè una roba incredibile era dato a 101 il giorno prima ma era lì e ha fatto super 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 bene a crono ha vinto il giro breve battendo due secondi ganna poraccio e è stato anche ufficialmente nominato il capitano Ineos del Tour de France Vabbè questo lo vedremo poi bisogna vedere Bernal come verrà fuori nel corso della della stagione Forse Bernal salta proprio il Tour adesso è da vedere però insomma chiaramente è lunga Vedremo questa cosa è Bernal salta il Tour me la stai dicendo tu ma dovrei non che la metta in dubbio No è una voce che sta girando nel senso che comunque dopo l'investitura di Martinez e Capitano e vedendo quanto Bernal abbia corso per ora poco e già con un piccolo problemino magari la Ineos potrebbe evitargli il peso e il Tour anche per quest'anno a dispetto di quello che pensavano Ma lo mandano al giro quindi speriamo Va bene Però vediamo come fa Marco perché comunque è difficile la situazione Bernal C'è chi ha detto che la Ineos cioè se non fa se non corre per Ganna in queste corse quando mai correrà per Ganna perché poi tutto sommato non ha corso per Ganna hanno fatto un po' ognuno per sé lui Piccoc e Martinez però Filippo si è difeso bene diciamo in una corsa che si conclude con una crono anche abbastanza lunga per il momento dell'anno che è ti potresti aspettare che effettivamente lo tutelino un po' di più in salita però ha vinto Pitcock quindi come fai? Eh lo so diciamo che hanno corso per puntare alla vittoria di tappa di Pitcock in quel caso e poi liberi tutti E beh che comunque però sai loro Pitcock lo stanno anche un po' testando proprio in ottica Grand Tour in realtà dopo aver vinto in salita c'era il giorno dopo la crono proprio classica accoppiata da momento campale di un Grand Tour doveva vedere anche il recupero come andava a crono infatti non è andato bene a crono diciamocelo Ha chiuso il diciannovesimo meglio Haresman eh va bene comunque io ho reso dell'idea che i Neneos Ganna abbia comunque fatto grandi miglioramenti e lo vediamo e ne raccogliamo i frutti con la pista o nelle crono anche se stavolta non l'ha vinta e per quanto riguarda il prendersi gli spazi che potrebbe forse prendersi dipende anche da lui poi tutto sommato perché alla Rubè l'anno scorso gli ho visto fare belle cose però deve essere più incisivo anche nel finale e vedrai o non forare o non forare da beh comunque dai Pippo però eh dai allora insomma Turo Foman l'hai detto che è la crono finale della vita Stefan Kjung l'abbiamo detto? ah no non l'abbiamo detto diciamolo perché è un evento abbastanza raro stranamente non ha forato a 20 settimane dall'arrivo e quindi è riuscito a vincere vabbè il Turo Foman è stato una specie di sfida continuata fra fra Scalatorini vinto da Matteo Jorgensen no no scusa la tappa finale vinta da Matteo Jorgensen da Mauri Vansevendant oh non ce la posso fare sono arrivati insieme Vansevendant ha preso la buono ma Jorgensen ha vinto il zero per un secondo dopo aver vinto la prima tappa se non sbaglio la terza non mi interessa va bene era la prima che contava qualcosa e vabbè chi se ne frega il Turo Foman la liquido così no vabbè ha vinto la tappa Diego Ulissi anche insomma trova sempre il modo di lasciare il segno e quanto a Jorgensen va bene Vansevendant le rete di Escartino come si muove sulla bici e Jorgensen un giocatore del subuteo che va in bici giusto in realtà Jorgensen perché si pronuncia così perché è americano è statunitense eh vabbè no 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 hanno tirato fuori qualcuno su Twitter non lo so ha tirato fuori una sua intervista quando aveva 11 anni in una corsa in America giovanile come ti chiami ah Matteo Jorgensen ma perché aveva 11 anni ancora non sapeva dire bene il proprio nome non aveva ancora scoperto le proprie radici perché quando mai Jorgensen si dice Jorgensen nella storia dell'umanità cioè Jorgensen da qui in avanti lo chiamaveremo Jorgensen così come diciamo Evenpool e così come diciamo allora questa è una vecchia polemica del basket perché c'è per esempio ci sono i naturalizzati americani tipo che in realtà è australiano non è americano Matthew Della Vedova e c'è stata questa polemica questa polemica questa discussione per qualche anno dobbiamo dirlo Della Vedova come lo direbbe normalmente un italiano o Della Vedova come lo dicono gli americani Della Vedova Paolo Banchero Paolo Banchero io chiamo Banchero non Banchero cioè mi sembra assurdo francamente Banchero vabbè allora lo chiamano Esposiro quando il primo italiano li inviedi Esposito Vincenzino Esposiro eh ma tu lo chiameresti Esposiro no allora Matteo lo chiamiamo Jorgensen per favore no ma proprio perché io lo chiamerei Esposito anche in America lui si chiama Jorgensen si chiama Jorgensen cioè comunque è americano a tutti gli effetti cioè è nato a Walnut Creek cos'è Walnut no c'è Walnut sì ma cioè comunque basta gli americani che comprano tutti basta vabbè comunque 23 anni quest'anno ne fa 24 a luglio è un corridore che a me piace sinceramente ma a me molto molto è uno a corse dure poi lo vedremo anche lui eh sabato e domenica nelle classiche belghe quindi alla Nizza uno così è pericoloso fa la Nizza occhio poi fa la Lanza e poi lo vedremo al Tour più avanti vabbè sarà un'altra storia e quindi anche Jorgensen se lo seguono le palle poi che altro che ci rimane l'America agli americani volevo dire Tour des Alpes Maritimes e Duval Kevin Vauclaine che anche qui potrebbe partire a dissuasio e dice Kevin Vauclaine o Kevin Vauclaine vabbè che è un prospetto ormai solido corridore sempre più che mi piace molto ne ho parlato più di una volta nei miei canali c'ha un bel guizzo è un bello scalatore intelligente è un attaccante ha vinto la tappa l'Aureliano Paré-Pentre l'ultima vince qualcosa e che ha fatto anche secondi in classifica terzo Nilsson Paulus nella seconda tappa l'ha vinta Mattias Chielmose che già avevamo visto bello pimpante all'Etoile de Bessege e c'è stata una scena invece spiacevole di Burgodon che era in fuga nella forse nella seconda tappa praticamente lui era in fuga adesso lo dico anche con chi perché ora non me lo sto ricordando però era uno scandinavo della della UNOX oddio sono curioso perché non la scusa storia forse era forse era Holter Adne Holter forse era norvegese vabbè erano in fuga praticamente questo sì era Holter praticamente che succede Burgodon si attacca il direttore sportivo alla miraglia per prendere una borraccia e si prende una spinta all'americana un lancio all'americana e stacca l'altro fuggitivo e non lo aspetta cioè se ne va da solo cioè con la scorrettezza con la scorrettezza poi gli hanno dato una penalizzazione di 10 punti 10 secondi in classifica vabbè poca cosa però non mi è uscito bene diciamo lo stesso Holter ha pubblicato l'immagine il video sui suoi canali insomma dicendo vabbè vergogna di buffone non è una bella cosa insomma non è una bella cosa Burgodò seguiamoci questo personaggetto Burgodò Holter avrà detto Burgodò beh complimenti complimenti bella scelta bravi bravi e vabbè andiamo avanti con la semana ciclistica comunità valenziana femminines adoro questi nomi con tipo femmines parole femmines scusate è perché è grave l'azienda è strano femmines ma non femminines no sì scusa ho letto una sillaba in più però si femmines o femmines con quell'azienda femmines però è grave ma è comunque sull'e o grave o aguto scusa ho letto un tasto in più nella tastiera nella valenziana sono gravi gli acetti non sono acuti come nel resto della spagna nella comunità valenziana gravi come anche in cataloghi insomma ci sono anche questi acetti gravi va bene mi piace mantenere sempre questa ignoranza su queste follie spagnole giro da solo quante tappe erano quattro vinto da Justin Geckir come si legge ma credo come è fiamminga credo sia Justin Geckir 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 credo ci siamo un po' di scatarro anche Geckir Justin Geckir che non è ma con i presi non è manco di primo però perché è 26enne però insomma è da poco nel ciclismo di vertice quest'anno è approdata nella quickstep femminile AG Insurance Soudal quickstep la squadra di Lefebvre il nostro amico e ha beccato l'azione giusta nell'ultima tappa in cui c'era una situazione molto fluida lei è riuscita a inserirsi nell'azione giusta insieme a Elise Uyen che è olandese della DSM che già nei giorni precedenti si era fatta vedere quindi lei Justin era comunque nel gruppetto perché non c'era stata eccessiva selezione diciamo nei giorni precedenti quindi era nel gruppetto di diverse decine di atlete ben messe e quindi ha beccato l'azione giusta insieme alla Uyen tappa a te ma a me ha vinto la Uyen l'ultima tappa e la Hekire ha vinto la generale e insomma tanti complimenti perché si è lasciato alle spalle gente di un certo spessore il giorno prima Ashley Mulman ha perso la corsa per un secondo e lì comunque obiettivamente la sua squadra noi non abbiamo potuto vedere la corsa perché non andava da nessuna parte ma la sua squadra deve aver commesso qualche errore di calcolo sicuramente no è la stessa comunque morivano mentre lo dicevo avevano due opzioni o vinceva l'uno o vinceva l'altra esatto sì sì era una classica botte però io non mi sarebbe dispiaciuto un'altra vittoria di Ashley però ha vinto la tappa del giorno prima si sono avvantaggiati in tre attacco era l'unica tappa in cui si poteva fare un po' più di selezione attacco di Annemich chi se no Annemich era all'esordio stagionale in questa valenziana quindi ha attaccato in salita e si è portata appresso Amanda Spratt che è stata già protagonista all'inizio stagione in Australia e appunto Ashley Molman che poi ha vinto brava lei e hanno chiuso con pochi secondi comunque di maggio 11 secondi su un gruppo di una quindicina di ventina di atleti 16 vedo qui no no all'arrivo erano dunque fino alla ventunesima 18 atleti ecco era nel secondo gruppo quello subito alle spalle fra queste c'era appunto la Hekira c'erano anche le italiane Leonora Gasparrini Gaia Realini ed Erika Magnaldi tra l'altro la Gasparrini cosa cabalistica ha fatto quattro tappe le ha chiuse tutte e quattro al quinto posto fantastico sia quelle da volata si si bellissime vabbè bellissimo quindi direi che in classifica si è piazzata quindi direi che in classifica si è piazzata quinta no settima settima però in compenso ha vinto la classifica delle giovani vabbè l'Italia non c'era la classifica punti perché vabbè l'Italia l'Italia ha festeggiato però nelle prime due tappe sono state entrambe vinte da una grandissima che tutti portiamo nel cuore Elisa Balsamo che ha vinto la prima e la seconda tappa in volata Marco 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 ferma 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 è rotativo stop stop su questa cosa dei quattro quinti posti di fila mi è appena venuto in mente che avevamo una cosa da far vedere dalla scorsa puntata non ti ricordi quei nomi di persona di quegli atleti puoi intestare abbiamo scoperto una perla assurda assurda dopo quel discorso dell'altra volta sui campionati nazionali cosa sono? Equadore nel quale c'erano sempre gli stessi cognomi in particolare nel campionato a cronome ha vinto Caicedo poi nono si è piazzato un altro Caicedo secondo e terzo entrambi Hefferson Seppeda quarto quinto e settimo Montenegro sesto uno dal cognome bellissimo Puente Star no no Narvaez ma non quel Narvaez un altro su Puente Star avevamo detto che bel cognome ti resta in mente io non ho guardato poi i nomi non me ne sono accorto ma stiamo scherzando no 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 vai te questa è tutta tua guarda di Puente Star io sono senza parole non è il cognome la cosa più bella di Puente Star ma il nome perché si chiama Stalin Vladimir Puente Star lasciamo la parte Vladimir che magari di questi tempi è divisivo poi mi chiamava Stalin Puente Star tu sai cosa significa perché magari significa stella a cinque punte no Star non è inglese no però scusa le matte mi sa quando ce l'hanno segnalato mi sa Gaviglio me l'ha segnalato che non era Puente Star la cosa più bella ma era il nome ma poi vai a scorrere meglio l'albo d'oro perché Puente Star è arrivato sesto settimo è arrivato uno dei Montenegro come si chiama il settimo Montenegro che si è piazzato Lilo ma cosa vi fumate in Ecuador cosa sta succedendo ma poi uno dietro l'altro troppo bello troppo scenico incredibile 25 anni Stalin Puente Star 22 anni Lilo in Montenegro quindi cosa si fumava in un quarto di secolo fa dobbiamo dire all'inizio degli anni 2000 insomma a cavallo dei millenni va bene dai no fortuna che me lo sono ricordato Marco così a caso io sapevo che comunque in Italia sicuramente anche qualcuno dei nostri ascoltatori ne avrà incrociato qualcuno nella vita c'erano dei nomi simili però molti anni fa per esempio in Emilia Romagna c'era qualche Stalino Stalino di nome però che ancora oggi in giro del mondo vengano fuori Stalin e Lenin come nomi insomma è un male il mio bisnonno si chiamava Valdimiro però lui era nato prima ancora di loro quindi che si devi fare lì è come se ti chiamavi Benito eri nato nel 1905 e poi beccavi sta sfiga che poi Vladimir mi sa che era anche un nome di Lenin no? perché si chiamava Vladimir Vladimir Illich quindi Stalin Vladimir ce ne erano tutti e due mentre Montenegro si chiamava Lenin Javier mi sembra Lenin Javier quindi i nostri due corridori preferiti del 2023 ufficialmente Tour of Rwanda al volo perché abbiamo parlato troppo oggi la tappa di oggi è di oggi giusto? sì il 21 la vinta Enoch Mulubran che è il nuovo leader della classifica generale prima vittoria stagionale da Green Project Bardiani direi ti sei lanciato così a memoria e beh tra l'altro quest'anno perché l'anno scorso mi pare che non ci fosse stata ancora questa apertura quest'anno hanno preso alcuni stranieri anche perché la squadra solitamente tutta italiana la squadra di reverberi e quest'anno ci sono Bonillo Mulubran e Gerald Scott insomma nel roster oltre a 23 italiani ma anche l'anno scorso ce n'era un paio comunque ce n'era un paio c'era già Mulubran c'era un paio un altro paio vabbè comunque sia una cosa nuova ah sì sì c'era il Bonillo l'anno scorso vabbè scusate comunque ancora in corso poi magari ne parleremo anche la settimana prossima in realtà e l'UE Tour anche ancora in corso ecco arriviamo all'UE Tour concluderei con l'UE Tour perché appunto è ancora in corso è della roba più fresca ieri tappa della Madonna con ventagli dal primo metro e di nuovo ventagli a 30 km alla fine con fughettina a 12 con dentro Remco Peglio Plap e un botto di velocisti e un po' di uomini Bahrain che aiutavano e un paio di lead out tipo tipo Drizners tipo Cess Ball per Cavendish e Val Heberg per Merlier direte come fai a ricordarti tutte queste cose che di solito non ti ricordi mai una minchia di niente perché ho fatto gli E-Lights non c'è nessun altro motivo ho ripetuto queste cose varie volte quindi pian piano e e niente ha già ribaltato tutta la classifica l'UE Team è morto già aveva Yates e Vine sono fritti in padella anche oggi hanno fatto male se la giocheranno quei tre domani ci ha Bel Jais vediamo un po' come staremo perché l'altra volta in salita ha preso i schiaffi vediamo domani comunque due salite io non darei per morti definitivamente gli UE più che altro perché abbiamo visto che la squadra sta molto bene quindi sta bene stava bene la squadra che era di là oggi a Crono hanno preso i schiaffi però Vine l'hai visto è vero che è passato un mese però non è che sia passato un secolo oggi Vine si è staccato dagli altri a Crono mi sa che la forma che aveva a gennaio se ne sta un po' pentendo so sta mezza idea vabbè allora dimmi pure che Babbo Nadal non esista a questo punto uccisi tutte le mie fantasie ci sto vediamo una puntata così signori vi do una notizia mandate a letto i bambini mandate a letto i bambini mi raccomando vai attenzione Babbo Natale non esiste e vi dirò di più è la cosa veramente più grave non è mai esistito no prima esisteva neanche prima quando eravamo piccoli ai 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 cosa fai ti stai strappando i capelli con un nastro adesivo no questo sembra una visiera ok ma in realtà sai quello che si mette nelle camicie quando compri la camicia nuova mio dio ecco perché non lo conosco come oggetto hai mica una camicia addosso scusa no è una cos'è non è una camicia no no questa è è una fake camicia in realtà è tipo una felpina di flanella col cappuccio fa molto anni 90 infatti molto la bottono solo per te guarda che bello grazie le due tappe di verno le hai citate a ruanda di san verno no no me l'ho scordato diciamo per completismo diciamo così 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 va bene questo era PRCP 46 il prossimo è PRCP 47 il precedente era PRCP 45 incredibile diciamo che siamo in linea abbiamo superato i problemi di lateralità di cui abbiamo sofferto qualche tempo fa ma di bipolarismo quelli mai caro Marco ti ringrazio ti do appuntamento alla prossima settimana e ricordando anche a tutti che poi dalla prossima settimana parte anche sul canale youtube di ciclo web che mi pare che prima non l'hai detto il nuovo format di Marco l'osteria di ciclo web un saluto a tutti grazie a voi grazie a Stefano soprattutto ciao ciao